Si terrà dal 22 al 25 giugno l'evento Capodarco L'altro Festival, sulla terrazza della comunità di Capodarco di Fermo. Il festival vedrà l'alternarsi di attori, autori, critici e di cortometraggi dedicati a temi sociali ed ambientali, il tutto presentato davanti ad un pubblico affezionato. Il festival avrà inizio giovedì 22 giugno, con la proiezione del film La ragazza del mondo, di Marco Danieli. A seguire, il critico cinematografico Marco Longo intervisterà Marco Danieli e Lucia Mascino. Venerdì 23 giugno, la notte dei corti, la maratona di proiezione dei video finalisti della undicesima edizione del premio L'Anello Debole. La Kermess verrà presentata da Andrea Pellizzari, direttore artistico del premio. Il 24 giugno, il radiobus, si ascolteranno i finalisti della sezione audio cortometraggi e in serata ci sarà la premiazione dei vincitori. Per la cerimonia sarà presente Aghe Giovanni Ambersa, conduttore televisivo ed autore di diversi programmi riguardo a tematiche sociali e di solidarietà. Domenica 25 giugno, l'incontro Terremoto Costruire il Futuro. Il giornalista RAI Maurizio Blasi condurrà un dibattito con il presidente della regione Marche, Luca Cericioli. La serata si concluderà con l'esibizione degli Alma Megretta e l'apertura del concerto verrà affidata al cantatore marchigiano Federico D'Annunzio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.